e con il supporto di Autonomy, il programma di mobilità di Fiat Group Automobile. Buonasera e bentornati a D-Sport, seconda puntata del 2013 e proprio in questi giorni di inizio marzo stiamo tutti pensando che manca un anno all'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Sochi 2014. Questo è anche uno dei motivi per cui oggi qui con noi in studio non c'è Tiziana Nasi che è la nostra ospite fissa, è volata a Sochi in quanto Presidente della Federazione Italiana di Sport Invernali Paralimpici. Quindi magari nella prossima puntata se potrà essere in studio con noi ci racconterà un po' come vanno i preparativi. Oggi quindi parleremo di sport invernali ma anche di molto altro con i nostri ospiti che vado a presentare. Il primo è Mario Di Grazia, maestro di yoga, che è qui con noi oggi per parlare di un progetto benessere di cui è ideatrice Patrizia Saccà, alla sua destra. Benvenuta, bentornata a D-Sport. Ciao Succa. Ciao. E accanto a lei Laura Moriondo che è la responsabile del progetto Disabili del Custorino, che è anche coinvolto in questo progetto benessere. Allora prima però parliamo un momentino appunto di sport invernali, Paralimpiadi e proviamo un po' a respirare un po' di atmosfera paralimpica di sport invernali parlando di hockey su ghiaccio perché dal 5 al 9 febbraio a Torino si è svolto un quadrangolare fra le nazionali di Italia, Repubblica Ceca, Russia e Giappone. E quindi abbiamo mandato il nostro Luca Boscaini ad intervistare l'allenatore della squadra italiana Massimo Darin. Vediamo il servizio. Allora Massimo, com'è andato questo quarto torneo Città di Torino? Ma è andato bene, sicuramente potevamo anche puntare a qualcosa di meglio a livello di magari giocare la finale. Però devo dire che sono abbastanza soddisfatto perché a due mesi dal Mondiale abbiamo tante cose da migliorare però ho visto anche già una squadra disciplinata quindi ho visto fare delle belle cose. Quello che c'è ci manca ancora soprattutto a livello fisico una parte di lavoro però in due mesi penso che colmeremo un po' questo gap che c'è da qui ai mondiali. E col di là invece del torneo come stai dicendo a proposito del Mondiale che è già iniziato possiamo già tirare un bilancio? Ma il bilancio guarda è positivo anche per il movimento e oggi è un po' una dimostrazione. Abbiamo visto, stiamo vedendo crescere molto questo movimento è uno sport che piace a livello disabile. Ci sono già dei giovani anche che stanno arrivando sia dalla parte dell'Alto Adige, che è un po' la culla anche degli sport del ghiaccio che anche qui a Torino soprattutto stanno facendo un grande lavoro e questo mi riempie veramente il cuore vedere i ragazzi anche giovani che vengono, che provano. Non è facile portare i disabili in pista perché comunque è uno sport abbastanza faticoso però vedo che vuol dire che stiamo facendo e stiamo crescendo bene. Hai detto che bisogna migliorare qualcosa, che cose esattamente? Ma guarda, alcune cose tattiche sicuramente uscite di zona, volevo un po' più velocizzare il gioco ogni tanto siamo un po' troppo leziosi, viviamo troppo di passaggini corti bisogna essere sempre in movimento nello sviluppo perché le squadre che incontreremo ai mondiali se parliamo di Canada, Stati Uniti e squadre che hanno un ritmo è un gioco di alto livello. Un giocatore irrinunciabile? Almeno 4-5 giocatori sono veramente importanti in questa squadra direi che i portieri sono tutti e due di ottimo livello difensivamente abbiamo un Gigi Rosa che credo sia uno dei difensori a livello mondiale più bravi e poi in questo torneo abbiamo visto fare cose da planker incredibili cioè delle giocate che nello slige ho visto da pochi giocatori. Dobbiamo difendere un titolo importante, quello europeo come ci difenderemo secondo te ai Sochi tra un anno? Beh intanto bisogna arrivarci, bisogna qualificarci credo che non sarà così facile. Intanto per Sochi spero di integrare il gruppo con qualche giovane questo è un aspetto importante, abbiamo un paio di giocatori di 16 anni che non possono essere qui anche per età e per impegni anche scolastici però a Sochi appunto abbiamo anche qualche giocatore nuovo che sta crescendo e spero di avvivare con questa squadra se andremo alle Olimpiadi con un gruppo di tre linee, al momento abbiamo due linee, due linee qualcosa riuscissimo a colmare questo gap penso che saremo ancora più competitivi. Allora Massimo un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare i prossimi appuntamenti della Nazionale. I prossimi appuntamenti siamo a fine marzo in un quadrangolare in Svezia a Solettea, dopodiché ci sono le finali del campionato italiano e un raduno premondiale, poi partiremo credo il giorno 6 per Seoul, per la Corea dove staremo 20 giorni e lì ci giocheremo tutto con le nostre possibilità. E quindi facciamo un in bocca al lupo all'Italia per i campionati mondiali della Corea campionati in cui si giocheranno la qualificazione per le Paralimpiadi di Sochi. Allora parlando però di Paralimpiadi Invernali non possiamo non parlare di Vancouver 2010 cioè dell'ultima edizione di tre anni fa a cui io e Patrizia siamo andate se non pare essere sempre autoreferenziali però ogni tanto ci capita anche di fare questi viaggi. Quindi Patrizia volevo da te un ricordo delle Paralimpiadi di Vancouver e secondo te se quelle di Sochi potranno avere lo stesso successo? Beh io credo che andando avanti può essere sempre migliore perché comunque magari prenderanno spunto dalle precedenti e direi che Vancouver è stato ottimo sotto tutti i punti di vista trasporti, agibilità, insomma è stato molto divertente ci siamo anche divertite la sera ad uscire un po' oltre che il tifo a tutti quanti gli atleti italiani e devo dire che è stato veramente un bellissimo ricordo lo ricordo come è una cosa organizzata veramente bene con i pullman insomma c'era la possibilità di muoversi bene agilmente dappertutto quindi credo che Sochi cercherà di imitare facendo anche meglio magari. Esatto ed è infatti diciamo una notizia di questi giorni l'appello del Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale a Sochi di non cercare di imitare Londra ma di cercare di imitare Vancouver perché comunque Olimpiadi, Paralimpiadi, Invernali e Estive sono veramente due eventi totalmente diversi per numeri e per caratteristiche quindi è meglio cercare di andare avanti sulla strada della proprio tipo di Olimpiadi, di giochi eccetera. Secondo me una delle sfide che saranno importanti per Sochi 2014 è quella dell'accessibilità la Russia forse non ha una grandissima cultura della disabilità e dell'accessibilità ancora in questo caso tre anni fa, di nuovo devo dire che ho fatto io questo viaggio però è così mi è capitato di andare tre giorni a Mosca e Laura Moriondo era una persona che faceva parte di questo gruppo c'era proprio un Paralimpic Day invernale creato ed organizzato per promuovere già le Paralimpiadi di Sochi quindi anche tu che ricorderai invece di questa piccola esperienza a Russia e secondo te sarà anche questa dell'accessibilità la sfida più importante per Sochi? Ma sicuramente, poi quello è stato un evento meraviglioso sotto tutti i punti di vista perché è organizzato nella Piazza Rossa quindi veramente era un'atmosfera particolare sicuramente l'impatto di avere comunque tante persone con disabilità da gestire, da coordinare da far accedere eccetera non è stato proprio tutto così semplice sicuramente per la Russia sarà stata una vetrina importante anche un banco di prova su cui misurarsi per poi essere meglio organizzati per questo evento poi delle Paralimpiadi che sicuramente avranno una rilevanza ben più importante quindi sicuramente quello è stato un test ecco quindi sicuramente le cose saranno, miglioreranno e immagino che i russi dopo Vancouver a maggior ragione tenteranno comunque di dare il meglio per le prossime Paralimpiadi sicuramente Forse un po' quello che era successo in Cina per Pechina no? Patrizia che tu hai partecipato a Pechina Eppure Eh sì, viaggiavano io e Laura, cioè niente da fare Però a Pechino ho partecipato come atleta, Vancouver invece come tifosa Però a Pechino può avere un'esperienza diretta e per loro si sentivano molto orgogliosi di organizzare questi eventi anche se appunto magari non c'era una grandissima cultura dell'accessibilità e dell'accoglienza però si spera che da allora si sia sviluppata Ma adesso veniamo a parlare dell'argomento principale di oggi che è questo progetto benessere che ha ideato Patrizia su cui poi coinvolgiamo anche Mario Dacci così, abbiamo ancora due minuti prima della pubblicità quindi in poche battute Dacci un profilo, giorni, orari e cosa si fa? Allora il progetto benessere è un progetto per, si chiama appunto progetto benessere psico-fisico e avviamento allo sport Siamo otto operatori, Mario è qui con noi e lui si occupa dello yoga Ci sono io per quel che riguarda il pimponterapia C'è Alberto Margarone per quel che riguarda sempre il tennis tavolo agonistico C'è Mari Cariccio per osteopatia Monica Borio per Shatsu Marco Dolfin che è un atleta del tennis tavolo e del nuoto Ed è anche un consulente ortopedico al bisogno Potrebbe anche fare delle visite all'occorrenza Poi chi dimentico, poi ho Valeria Casonato per arteterapia E Monica Manni che è una fisioterapista dell'usu Tutto questo progetto non è di finalità agonistica ma è per un benessere a 360 gradi Abbiamo solo più minuti, quindi quando vi vedete, dove? Allora il venerdì dalle 17 alle 19 a Grugliasco Via Tiziano Lanza numero 32 vicino al centro commerciale È un posto presso l'isola che non c'è Siamo ospitati lì Tutti i venerdì ci saranno C'è un calendario che io comunque poi manderò a chi me lo chiede O nelle iscrizioni eccetera Dove tutte le settimane si alterneranno i vari operatori Si partirà da pimponterapia per poi fare magari attività fisioterapica Pilates, yoga eccetera Ogni settimana sarà distribuito in modo diverso Perfetto Bene, abbiamo finito Pubblicità e ci ritroviamo tra poco Bentornati a D-Sport, seconda puntata del 2013 Stiamo parlando di un progetto benessere psicofisico e di ovviamente lo sport ideato da Patrizia Sacca Che infatti volevo un po' ci spiegasse come è venuta l'idea appunto di avviare un'iniziativa del genere E come ha coinvolto tutte le persone di cui ci ha accennato poco fa Tu sai molto bene Silvia che io faccio attività agonistica, ho fatto attività agonistica per tantissimo tempo Per 22-23 anni circa E in questi miei 22-23 anni ho avuto modo di oltre fare attività agonistica Aver modo di curarmi in un altro modo perché fare soltanto attività agonistica non è sufficiente Per cui andando all'unità spinale facendo fisioterapia Facendo appunto shatsu Facendo osteopatia Andando da Mario per tanti anni Io conosco Mario da tantissimi anni Ho iniziato a fare yoga in un modo più fisico che non meditativo Come poi dopo andrà a spiegare Mario Per Così proprio finalizzato all'agonismo Adesso che ho smesso di fare agonismo Andando all'unità spinale da tanti anni che vado all'unità spinale A fare dei corsi di ping pong terapia Mi sono resa conto che le domande erano di tipo differente Di benessere Cioè come fare per fare fisioterapia Gli ospedali sono saturi e allora non si fa fisioterapia Costa molto andare a fare comunque Andare a fare della fisioterapia piuttosto che dell'osteopatia Tutto viene comunque pagato Non tutti se lo possono permettere E così un paio d'anni fa Così si è accesa questa lampadina Dicendo ma perché no Perché non si può fare un avviamento che è differente Fare proprio ping pong terapia Inteso come una cosa salutare Per se stessi Per se stessi E per tutte anche le disabilità Cioè voglio dire disabilità fisiche intendo Parate traplegici O comunque per le distrofie Alludo alla sedia a rotelle insomma Dove ogni persona può fare qualsiasi cosa Cioè dove si può fare sia la respirazione Piuttosto che le capacità residue Se io muovo solo il collo farò attività con quel tipo di movimento Se muovo il busto Se muovo una gamba Insomma così E allora questa idea è nata un po' per gioco Devo dire no? Dico ah sarebbe più bella una cosa carina Tante persone mi chiedevano Ma tu hai un centro? Ma perché? Andando sempre lì all'unità spinale Facendo fare un po' di stretching Un po' di terapia Ho coinvolto poi appunto Alcune persone Ho cominciato con un paio di persone Abbiamo detto ci siamo ritrovati così A fare una chiacchierata Abbiamo tirato giù un progetto E da lì è partito E tutti quanti Abbiamo detto Ognuno ha detto Vabbè io posso lavorare nel settore fisioterapico Io nel settore di osteopatia E così via E siamo andati a bussare a tante porte Come tu ben sai È molto difficile trovare sponsorizzazioni Perché Intanto vediamo dietro Patrizia Sì L'ingegnere Roberto Polloni Che è il vicepresidente CUS È il presidente del club Panathlon Torino Che appunto nel primo incontro Si è cimitato con lui nel ping pong Ed è appunto fra gli enti Che hanno reso possibile la realizzazione del progetto Sì infatti devo proprio dire Grazie a CUS Panathlon Panathleti Alla sponsorizzazione A Roberto Polloni Che ha creduto da subito nel progetto E a CUS Torino Che comunque mi ha aiutato Per trovare gli spazi E anche i tavoli Devo dire che questo connubio Tapanatron e CUS Ha permesso la realizzazione del progetto Anche perché noi andremo Veramente a far pagare Un costo minimo Ai partecipanti Il che vuol dire Che ogni partecipante Potrà avere Come dicevo prima In un calendario Diverse attività Senza spendere Quello che in realtà Un professionista potrebbe richiedere E ci tengo a dire Che per due anni Sono andata comunque A bussare a più porte A società sportive A vedere come si poteva realizzare E Panatron A Roberto Polloni A aperto la porta Dicevano Sì bellissimo Va bene Anche a Riccardo Delicio Che è il presidente Del CUS Torino Anche lui A aperto la porta Laura Moriondo è qui E lo può anche lei confermare C'è stata proprio questa Questa bella possibilità E quindi adesso il progetto È partito La scorsa settimana E adesso insomma Siamo in avvio Sono molto contenta Perché sono venute Anche testimonianze Come Francesca Fenocchio Che quindi comunque È un'atleta paralimpica E il mio obiettivo È lavorare su più fronti Anche sugli atleti paralimpici Ok Adesso quindi andiamo a conoscere I collaboratori di Patrizia In questo progetto Nel servizio di Luca Boscaini Siamo con Monica Borio Insegnante di Shatsu Monica come lo sport Come lo shatsu Può essere utile A una persona disabile Ma lo shatsu in generale È utile un po' a tutti Molte persone disabili Soprattutto para O tetraplegi Che mi hanno fatto questa domanda Perché non avendo sensibilità Nelle gambe O addirittura A volte anche Problemi Agli arti superiori Dicono Ma se io non ho sensibilità Nelle gambe E ricevo shatsu Che benefici possa avere In realtà lo shatsu Non agisce sui muscoli O sulla struttura muscolare E ossea Bensì sulla struttura energetica E quella rimane invariata Non so se avete mai sentito Parlare anche di persone amputate Che hanno un senso di formicolio Al piede Che non c'è più magari E si chiama l'arto fantasma Nella medicina occidentale In realtà è perché La struttura energetica Continua a essere presente Anche se non c'è la materia Che la ricopre Mari Cariccio Osteopatia e disabilità Quali sono i campi Di applicazione Allora L'applicazione dell'osteopatia Nella disabilità E il trattamento Della persona In generale Perché Ogni disabile Ha una particolarità Specifica Che non può essere Generalizzata Per cui L'osteopatia Trattando la persona Globalmente Può essere applicata Nell'arte dello sport Nell'arte Proprio Vera e propria Nelle applicazioni Fisiche Nella psiche Può essere preso Tutto in considerazione Semplicemente utilizzando Le mani L'osteopatia Applicata alla fisiologia E all'anatomia Valeria Casonato Come si inserisce L'arte terapia In questo progetto E soprattutto Che cosa farete? Attraverso Un ascolto Sempre più sensibile Delle nostre Emozioni Attraverso Il colore Attraverso Il disegno Si prenderà Sempre più Consapevolezza Di ciò che Il gesto artistico Ci porta E con la domanda Ma è per tutti O soltanto Per chi ha Un estro artistico? No assolutamente Qui Il lavoro che si fa Non è per Giungere Ad avere Dei risultati Artistici E si Terra sempre Meno conto Del risultato Finale Io mi chiamo Margherita Sono quasi 35 anni Che sono Paraplegica Conosco Patrizia Praticamente Da quando sono Initata Paraplegica Ho fatto Un po' Di sport Agonistico In quegli anni Lì Poi in realtà Mi sono dedicata Ad altro Mi sono dedicata Alla musica Parliamo invece Di questo progetto Questo progetto Patrizia Quando me ne ha parlato Insomma L'ho trovato Veramente interessante Anche perché Credo che Da nessuna parte Esista un progetto Di questo tipo E perché Chi meglio di me Patrizia Che siamo Paraplegiche Da tanti anni Sa come È veramente importante Il benessere A 360 gradi Esatto Ma la domanda Che ti faccio Cosa c'entra Il tennis tavolo Ma il tennis tavolo Perché Perché proprio Il tennis tavolo Perché Il cavallo di battaglia Di Patrizia Sicuramente Poi credo che sia Lo sport per eccellenza Comunque per noi Per noi Paraplegici È stato proprio Credo il primo sport In assoluto Comunque ad essere Praticato Da noi Paraplegici Alberto Marangone Con Patrizia Sacca Ti occuperai Di avvicinare Le persone Al tennis tavolo Uno sport Che annulla Le differenze Tra disabili e non Sì Io ho avuto Il mio primo Diciamo Impegno con Patrizia Per prepararle All'Olimpiadi Del 2008 L'ultima che ha fatto Lei a Pechino E piano piano Mi ha Diciamo anche Lei ha insegnato Perché io ero Sono nuovo del mestiere Diciamo Tra Diciamo Normodotati e non Cambiano Diverse Colpi tecnici Movimenti Eccetera Piano piano Preparando Per le Olimpiadi Mi ha insegnato Un po' di Diciamo Le principali Diciamo Differenze Tra i normodotati E non Che Però anche i normodotati Hanno Diciamo La loro Cioè La velocità I colpi La tecnica Più o meno È uguale Alla nostra Bene Mario Finalmente Parliamo con te Tu sei stato coinvolto Per lo yoga Sei maestro di yoga E quindi volevo Capire come Lo yoga si associa Alla Si può applicare Diciamo Al campo della disabilità Tu conosci Patrizio Da tanti anni E quindi Come ti sei Come ti inserisci In questo progetto Ma anche se Lo yoga In occidente È stato Compreso come Una serie di movimenti O di posizioni Fisiche In origine Lo yoga Si è più Occupato Della Dimensione interiore Che non Quella esteriore E io mi occupo Di quella Quindi Due cose Sono fondamentali Una È la relazione Con i nostri Contenuti mentali Fondamentalmente Se noi Iniziamo A Osservare Più attentamente I nostri disagi La maggior parte Di essi Sono provocati Da Influenze Del pensiero E dei film Mentali Sulla nostra emotività Quindi Modificare Il rapporto Di dipendenza Tra emotività E pensiero È una cosa Fondamentale E un'altra cosa È quella Di scoprire E riconnettersi Sempre più Con una sorgente Di positività Interiore Che abbiamo visto In tante situazioni Persone Che Hanno vissuto Forti traumi Disagi Eccetera Però Hanno Mantenuto Diciamo Uno stato D'animo Molto Vivace Molto positivo Eccetera Ecco Quindi noi Facilitiamo La Riconnessione Con questa Sorgente Di positività Interiore Poi un altro Un altro discorso Che affrontiamo Possiamo continuare Dopo la pubblicità Perfetto Perfetto Allora ci vediamo Tra poco Grazie Terza parte Di sport Stavamo parlando Di yoga Insieme a Mario Di Grazia Che ho brutalmente Interrotto prima Mi dispiace Stai facendo Un discorso Molto interessante Sull'interiorità Che è Comunque L'aspetto Forse più importante Della disciplina Sì Almeno Nello yoga Che insegno io Che è Molto Intimamente Collegato Con la Meditazione In realtà Nella Mia pratica Yoga e Meditazione Non sono due cose Diverse Perché La meditazione È Un equilibrio Interiore E poi Quello che Facciamo Esteriormente Con il corpo Non ha Troppa importanza Io posso Fare Meditazione Cucinando Posso fare Meditazione Camminando O Osservando Un tramonto Come Ci poniamo Nei confronti Di questa realtà Che stiamo vivendo Questa è la cosa Importante E questo Modo di porsi Meditativo Riesce Appunto A mantenere Una Tranquillità E una serenità Interiore Che di solito Viene disturbata Proprio dalle Reazioni mentali Negative Un altro Aspetto Dello yoga È La relazione Con il corpo Quindi Di solito Le persone Comuni La maggior parte Utilizzano Il corpo E a volte Anche male Creandogli Problemi Noi invece Vogliamo Instaurare Un rapporto Intimo Con il corpo Di collaborazione E quindi Il rapporto Con il corpo È un rapporto Amichevole Che si inizia A formare Noi Si inizia A ascoltare I suoi bisogni A ascoltare I suoi ritmi E quindi È un rispetto Profondo Che poi Iniziamo Ad avere Con il corpo Invece Che uno Sfruttamento Come di solito Avviene Patrizia Tu fai yoga Quindi con lui Da tanto tempo Confermi Tutti questi benefici Insomma Dalla pratica Beh Sì Assolutamente Diciamo che io Come dicevo prima Ho cominciato A fare yoga In un modo Molto più superficiale Più per il corpo Perché facevo Attività agonistica Poi poco alla volta Con Mario Ho imparato A lavorare Sull'ego E su una consapevolezza Più profonda Faccio dei seminari Con lui Proprio per arrivare Ad avvicinarmi Di più Alla spiritualità A quello che è Comunque Quello spazio Senza corpo E quindi Il fatto di essere Una persona Disabile Oppure meno Ovviamente Non ha nessuna Assolutamente Non ha importanza In questo caso Non ha assolutamente importanza L'unica importanza Povera è che Mario Mi deve aiutare Per scendere nel lettino E mi deve prendere in braccio Se voglio stare seduta Se no posso anche stare seduta Sulla sedia a rotelle Quando vado al suo centro Dipende Posso anche stare seduta Infatti colgo l'occasione Per invitarti ancora una volta A venire da noi Ci proviamo sempre Ci proviamo sempre A invitare Silvia Appena ho tempo Vengo Almeno per yoga Appena un venerdì pomeriggio Che ti serve Con tutti gli impegni che hai Noi lo diciamo Tutte le volte Ma una volta verrò Ve lo prometto Adesso però Vorrei che ci raccontassi Un pochino Un po' magari sinteticamente Poi lo riprendiamo dopo Come è andato il primo incontro Del tuo progetto Il primo marzo Beh io direi che sono molto contenta Molto soddisfatta Del primo incontro C'erano ovviamente tutti C'erano alcuni panatleti C'era Roberto Polloni Insomma c'era Laura È stata una cosa direi carina Molto Molto in semplicità E in accoglienza generale In armonia In allegria Insomma tutti quanti Hanno fatto una specie di Diciamo un po' di minestrone di cose Perché erano Gli operatori c'erano tutti A parte Marco Dolfin Che non poteva esserci Ma gli altri c'erano tutti Quindi diciamo Che abbiamo iniziato Con Col fare un pochino di respirazione Con un po' di stretching Con un po' di fisioterapia Poi Monica Borghi Ha trattato Alcune persone Valeria purtroppo Non ha potuto fare nulla Di arte e terapia Perché lì ci voleva Molto più tempo Mario poi ha chiuso Tutto la sessione Facendo comunque Un quarto d'ora 20 minuti di meditazione Benissimo Adesso apriamo Una parentesi Su un altro argomento Perché il 26 febbraio scorso A Biella È stato aperto Il primo sportello A livello regionale CIP INAIL Ed è un avvenimento Molto importante Perché è Una prima applicazione Pratica Della convenzione Quadri Su cui abbiamo già parlato Diverse volte Qui a Disport Fra Comitato regionale CIP Piemonte È INAIL regionale Quindi vediamo Il servizio Ancora di Luca Boscaini Che ormai È il nostro inviato ufficiale Integrazione E riabilitazione Possibile È il progetto Che ha portato Lina e il Dibiella A dedicare Uno dei suoi sportelli Al CIP Il Comitato Italiano Paralimpico In questa maniera Tutti gli utenti Con disabilità Causate da incidenti Sul lavoro Potranno ottenere Oltre ai consigli Le indicazioni Sulle attività sportive Dedicate Anche i contatti Con le relative Associazioni Che operano Sul territorio Siamo nello Sportello Cipine Con Paola Magliona Per parlare Appunto Dell'inaugurazione Che c'è stata oggi Innanzitutto Quali saranno Gli orari Di questo sportello E da quando Sarà operativo Allora Oggi È solo l'inaugurazione Con la dimostrazione Di schermo E Gli sportelli Lo sportello Sarà aperto Il primo Il terzo Giovedì Di ogni mese Dalle 10 Alle 12 Ma Su appuntamento In qualunque giorno Perché l'Inel È a disposizione Ed io pure Io sono la delegata Provinciale Cip Quindi È nel mio interesse Essere disponibile Ecco Quanti atleti Sono già stati avviati Allo sport Allora Tenendo presente Che io Che noi stiamo parlando Dello sportello Cipine Di Biella Perché io sono La delegata Provinciale di Biella Ma come responsabile Cip Inail Io ho anche la zona Di Torino E di Vercelli Allora Su Torino Devo dire Che c'è molta più Utenza Per forza di cose Quindi Io Biella Appena cominciato Abbiamo già Tera atleti Già Avviati Ma Diciamo Che quello Che mi dà più soddisfazione È la zona Di Torino Abbiamo due Nella neve Questa Società di nuoto Che ha 11 atleti Abbiamo avviato Adesso non mi vengono in mente Le cose Perché naturalmente Si evolvono Totalmente tante Si e poi si Evolvono continuamente Evolvono continuamente Per sostenere le pratiche Degli sport Paralimpici In quanto Crede Nella valenza Dello sport Per il reinserimento Sociale E lavorativo Degli infortunati Lo sportello Inail Di Biella Crea L'occasione Per chiunque Sia interessato Ad avvicinarsi A praticare Sport Paralimpici Di poter Recarsi qui E trovare fisicamente Un referente Cip Per avere Informazioni E per avviarsi A questo sport Quindi Non soltanto Coloro Che hanno subito Un infortunio Sul lavoro Ma tutti coloro Che vogliono Praticare Sport Paralimpici Bene Quindi Ci auguriamo Ovviamente Che in tutte Le province Del Piemonte Nascano sportelli Come quello Di Biella Allora Laura Tu sei Responsabile Del progetto Disabili del CUS Torino Che tra niente Che hanno promesso La realizzazione Del progetto Benessere Di cui abbiamo Parlato Però volevo Saper un po' Bene da te Quando è nato Quindi il progetto Disabili del CUS E quali attività Sportive Offrite Sì Colgo solo Volevo solo dire Che rispetto A quanto è stato detto Anche noi Come CUS Torino Paola Magliola Ci ha contattato Perché su Torino Appunto c'era un ragazzo Infortunato Con un infortunio Sul lavoro Che si è avvicinato Al triathlon E quindi Ha fatto attività E ha supportato Questo ragazzo Sia con L'acquisto Dell'attrezzatura Che con Proprio l'attività Credo per un anno Mi sembra Che comunque L'Inail Accompagna Fa questo processo Di avvicinamento Allo sport Per un anno Per un anno Benissimo Tornando Al progetto Sportivo Del CUS Il progetto Disabili È nato Dieci anni fa Più o meno Quindi sono anni Che il CUS Investe Sia nel Abbattimento Delle barriere Architettoniche Sugli impianti Sia nell'acquisto Di attrezzature Di ausili Particolari E anche Nei propri Struttori Nella specializzazione Dei propri Struttori Per offrire Comunque Uno sport Accessibile A tutti Ovviamente Noi Non essendo Come Custorino Una polisportiva Insomma Proprio dedicata Solo ai disabili C'è un po' più difficile Offrire Quelli che sono Gli sport di squadra No? Però Ad esempio Abbiamo Combinazione Una bella squadra Di ragazzi disabili Che fanno Tennis tavolo Che tutti gli anni Partecipano ai campionati Italiani Insomma Anche a Tornei Regionali Eccetera Poi abbiamo Poi abbiamo Invece Anche degli atleti Che hanno Partecipato Anche in mondiali Su canoa E canottaggio E poi Insomma Comunque Quando ci chiedono Noi cerchiamo Di offrire Anche altri sport Il nuoto L'atletica Comunque anche Canottaggio All'uso Cioè vanno Ecco Anche il CUS Sì sono Quattro anni Che come Patrizia Lavora Interviene Presso l'unità Spinale Con il tennis tavolo Il CUS partecipa Con la promozione Del canottaggio Ai ragazzi Ricoverati Presso La struttura Ancora E quindi Si fa sia Attività All'unità Spinale E che invece Anche nella bella Stagione Vengono proprio Con i propri operatori Sul fiume Bene Continuiamo a parlare Dopo la pubblicità Ultima parte Di sport Laura Dovevi ancora Aggiungere qualcosa Sulla partecipazione Del CUS Al progetto Benessere Sì Beh dunque Allora Patrizia Si è rivolta A noi Come Custorino E insomma Il presidente Riccardo Delicio Sono anni Che investe In qualche modo Sull'attività Adattata E quindi Noi per quanto C'è stato possibile L'abbiamo supportato Offrendo l'attrezzatura I tavoli Quindi che adesso Sono a Grugliasco E poi Ci ha dato anche sostegno Il sindaco di Grugliasco E l'associazione Globo Grugliasco Per lo spazio Perché Doveva essere fatta Presso la scuola Gramsci Che in questo momento Stanno facendo dei lavori Preparando comunque La discesa E quindi l'isola Che non c'è Di Grugliasco Sta ospitando Questo progetto Fino a che non sarà pronta Insomma Questa sede Comunque Offerta dal comune Di Grugliasco Ho capito Benissimo Allora Adesso L'ultimo servizio Della puntata di oggi Che è Una serie di interviste Ai componenti Della nuova giunta Del comitato Regionale Del CIP Ancora Luca Buscaini Vincenzo Langella Quanto è importante Che una disciplina Come il wheelchair Hockey Sia presente Nella giunta Regionale Del CIP Beh È importante Visto che Comunque È una disciplina Abbastanza nuova Non nuovissima Perché È dal 1997 Che c'è in Italia Ma soprattutto È importante Perché Non è Come altri Sporti Paraolimpici Molto conosciuta Nel wheelchair Hockey Quanti sono le squadre In Italia In Piemonte Come si Come si scontra Allora Le squadre In Italia Sono 35 In Piemonte Ci sono due squadre Una Torino E una Grugliasco Il Magic Torino E i Dragons Di Grugliasco E praticamente Si svolge Con Cinque giocatori Di cui Due o tre mazze E Secondo delle mazze Ho due o tre stick Col portiere Ho due stick Il portiere E uno stick Solo Antonio Miletto Il basket in carrozzina Insieme anche All'ice hockey È uno degli sport Più conosciuti In Piemonte Infatti Ci sono quattro squadre Per il basket in carrozzina Come può ancora Questa disciplina Crescere Come vede in generale Il futuro Dello sport Disabili Sicuramente Il basket in carrozzina È uno sport Molto attrattivo Perché è uno sport Dinamico Agonistico Posso dire Senza Tema Di smentite Che è anche Spettacolare La gente Si avvicina E anche i ragazzi Con vari tipi Di disabilità Motoria Si avvicinano A questo sport Perché è trascinante Il basket in carrozzina In questo momento Sta vivendo un momento Molto buono Perché abbiamo Quattro squadre Una milita in A2 Due militano In serie B E abbiamo Una ottima squadra Di mini Di mini basket Che recluta Ragazzi Con disabilità Molte volte Anche più gravi E gli consente Di vivere Una vita sportiva Agonistica Molto simpatica Pietro Come pensi Di essere utile Al Cip Piemonte Con la tua esperienza Sicuramente In maniera positiva È ovvio E soprattutto Per dare Quell'apporto Che in vent'anni Di carrozzina In vent'anni Di sport Da seduto Si può dare Giustamente Anche perché Perché non utilizzare Quest'esperienza Visto che ci siamo In tanti E poi Prima di ritirarsi In pensione Perché non dare Una mano E cercare Di aprire Le porte Ad altri Che arriveranno Come vedi Il futuro Degli sport Paralimpici Sicuramente È un futuro È un futuro Rosio Se lo vediamo Sotto l'aspetto Dello sport Perché Se vogliamo Sono sport Che stanno Prendendo Piede Tra parentesi Negli ultimi anni Perché sono diventati Visibili Perché fortunatamente Sono diventati visibili Perché comunque La gente ne parla E perché se ne fanno Sempre di più E c'è sempre più gente Che si avvicina Lo sport Prende piede Patrizia Dillo Adesso lo dici Davanti a tutti Però Lo sport Prende piede Ma sì Ma noi Non Nessun problema E quando parli Le persone non vedenti Che ti dicono Ci vediamo Loro non hanno Nessun problema A dire così Siamo noi Che magari Abbiamo paura Di offendere Qualche sensibilità Ma in generale Pure dove ti siedi A tavola Appunto Io non mi offendo In nessun modo Siamo un amice Infatti A volte sono gli altri Che si fanno più problemi Di quelli che Dovrebbero Allora Volevo però Dare un indirizzo Per le persone Che magari Possono essere interessate A chiedere informazioni O a partecipare Ai vostri corsi Diciamo prima Che possiamo dare L'indirizzo Del comitato paralimpico Che quindi è Piemonte Chiocciola Comitatoparalimpico.it A cui potete Scrivere Per qualunque cosa Inerente allo sport Disabili Ma anche per il progetto Benessere Di cui abbiamo Parlato oggi Quindi insomma Spero che Ci siano delle persone Che contatteranno Patrizia Per avere informazioni O partecipare Grazie Adesso Abbiamo accennato prima L'unità spinale Sì L'unità spinale È una struttura Unità spinale Unicurale È una struttura Importantissima Perché è La struttura Dove vanno Le persone In riabilitazione Dopo che hanno Incidenti Quindi persone Con lesione Midollare Che diventano Persone disabili Da tantissimi anni Lo sport Entra nell'unità spinale Ci sono convenzioni A livello nazionale E a livello regionale E Patrizia Sacca Da tanti anni Porta Il tennis tavolo Ai pazienti Dell'unità spinale Quindi volevo che raccontassi Un po' Questa esperienza Legata anche al fatto Che siete andati A presentare Il progetto Benessere Ai ragazzi Che sono ricoverati Lì Sì Io È dal 2000 Dall'anno 2000 Che vado All'unità spinale Prima era su al CRF In Collina E poi Qui al CTO Anche perché Il ping pong Terapia È per tutti È proprio uno Dei primi sport Primissimi sport Che sono nati Nelle unità spinali Perché sono molto Praticabili Da tutti Anche da Tetraplegici Molto gravi Ed è un po' Una forma Riabilitativa Perché grazie alla pallina Tu muovi E sviluppi Dei movimenti Per cui insomma È molto utile Poi da lì Ci sono Nelle unità spinali Come ben sappiamo Ci sono tantissimi sport Adesso Ce ne sono tanti Quasi tutti Direi Per quello che riguarda Invece Il nostro progetto La dottoressa Actis Che è venuta Alla conferenza stampa Che è la direttrice Che è la direttrice Appunto Dell'unità spinale È stata piacevolmente Colpita Di questo nostro progetto Le è piaciuto molto E ci ha invitato L'unità spinale A presentarlo E io sono andata Con alcuni operatori E abbiamo presentato Alle persone Che erano ricoverate Un po' Questo progetto Non è aperto I ricoverati Perché i ricoverati Hanno già Tutta una serie Di attività All'interno Dell'unità spinale Quindi diventerebbe Poi entrare Un po' in conflitto Nel senso che Loro poi sono ricoverati Verrebbero da noi Il nostro progetto Serve per quando Le persone usciranno Dall'unità spinale Per continuare Una forma di fisioterapia Ma è anche vero Che quando siamo andati Abbiamo presentato Soprattutto Lo yoga La meditazione Lo yoga È piaciuto molto Alle persone Che erano ricoverate Hanno fatto Molte domande A Mario Dopo che lui Ha presentato Questa disciplina Che magari Per persone disabili Non era neanche Non era neanche conosciuta E tutto sommato Credo che sarebbe carino Facciamo raccontare Da Mario Sì Dai Che come ti sei trovato Diciamo in questo ambiente Che forse In parte Conoscevi poco Ho visto che c'era una partecipazione notevole nell'ascoltare certe cose Perché forse Perché forse Proprio come dicevo prima Lo yoga È stato Fatto vedere più come una Una ginnastica Contorsionistica Con magari Annesso Un rilassamento Quindi una disciplina Difficilmente praticabile Da una persona In carazzina Per esempio Ecco Io invece Ho voluto Far Conoscere Un altro aspetto Dello yoga Che è il più importante Che è quello appunto Come ho detto prima Della riduzione Dell'aggressione Di Una parte Di noi stessi Nei confronti Di noi stessi Quindi La nostra mente A volte Non è Un'amica Ma si trasforma In una nemica Ecco Quindi Questo È importante Ci sono diverse pratiche Nello yoga Che aiutano A avvicinarsi A questa tranquillità Interiore E quindi Magari Sarà anche Potrebbe essere utile Fare qualche incontro Di presentazione Proprio soltanto Dello yoga Dentro l'unità spinale Dato che per i ragazzi È più difficile Uscire E fare altre attività In altri posti Adesso siamo quasi In conclusione Quindi dobbiamo Un po' stringere È il momento Di far vedere Gli appuntamenti sportivi Del prossimo mese Abbiamo raccolto Qualche Qualche appuntamento Ce ne sono abbastanza 13 marzo-aprile Sono sempre i mesi In cui Iniziano Ad accavallarsi Più appuntamenti Iniziamo infatti Con il tennis In carrozzina A Cuneo Al palatennis comunale Il quattordicesimo Trofeo Alpi del mare Poi proseguiamo Con Sempre lo stesso weekend 16-17 marzo A Pinerolo Ci sarà Una delle fasi Finale Anzi l'ultima prova Del campionato italiano Di curling In carrozzina Poi Domenica 24 marzo Tennis Novara Campionato regionale Fisdir Andiamo ancora avanti Sabato 6 aprile È un sabato Di weekend È un sabato Di basket In carrozzina In via Moncrivello 8 Abbiamo sia il campionato Di serie A2 Alle ore 17 Che il campionato di B Alle ore 20 e 30 In entrambi i casi Gioca l'HB Wichel Torino Di serie A E di serie B Poi Dal 4 al 7 aprile Torniamo un momento indietro La 4 al 7 aprile Tennis in carrozzina Terzo trofeo nazionale Città di Pinerolo Poi Dovrebbero ancora essercene Qualcuna Ecco Nuoto Pinerolo Il 7 aprile Il meeting interregionale Fisdir di Atletica A Bra E poi il 13 aprile A Torino Il meeting interregionale Judo Fisdir Perfetto Siamo veramente Alla conclusione di questa puntata Io ringrazio moltissimo Gli ospiti di oggi Quindi Mario Di Grazia Patrizia Sacca Laura Moriondo Spero di avervi ospiti Magari in un'altra puntata Magari per fare un resoconto finale Della stagione di questo progetto E a tutti voi Non mi resta che dare la buonanotte E arrivederci alla prossima puntata Il 14 di aprile Ciao a tutti Buonanotte Grazie 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 Di Sport E realizzato a cura Del Comitato Italiano Paralimpico Piemonte In collaborazione con INAIL Direzione regionale Piemonte E con il supporto di Autonomy Il programma di mobilità Di Fiat Group Automobile E realizzato a cura